Questa iniziativa perché non è il frutto della disperazione, è il risultato di cinque mesi ormai di chiusura su un anno che per me equivalgono non al disastro totale ma equivalgono al preludio di un disastro. Non l'ho fatto per protestare, l'ho fatto come ultima chance, ultima spiaggia, una protesta gandiana la mia. Ho rinunciato al diritto di lavorare in nome di una pandemia, ho rinunciato al diritto di lavorare, di esprimere il mio talento, di essere me stesso, di fare la cosa che più mi piace fare, quindi stare a contatto col pubblico, servire i clienti per il bene della collettività. L'ho fatto io come l'hanno fatto ahimè migliaia di commercianti e ristoratori, quindi in cambio di questa rinuncia, in cambio di questo diritto, del diritto al lavoro, io chiedo e pretendo quindi il diritto alla serenità e alla legalità. E' per questo che ho deciso di non partecipare alla protesta comprensibile che non condivido ma appoggio moralmente dei miei colleghi, io apro anche perché a mio avviso in un momento così difficile bisogna evitare qualunque scontro. Quindi non ho aderito a questa protesta, ho fatto qualcosa di diverso, l'ho fatto a modo mio, ho fatto l'unica cosa che potevo fare. Non lo so, prima di cedere, prima di chiudere, io comunque combatterò con tutte le forze, con tutte le risorse che mi sono rimaste, almeno quelle mentali. Dopo vent'anni di lavoro, chi fa questo lavoro come me sa cosa vuol dire, ritrovarsi davanti a un baratro non è sicuramente piacevole per nessuno e confido nel buon senso di chi ha l'onore e l'onere di amministrare la nostra vita e di decidere del nostro futuro e di quello dei nostri figli. Io sono al braccio destro di Iuri, mi occupo prevalentemente di coordinare i ragazzi e di gestire le attività del locale. In questo momento anche per me è una grossa difficoltà, in quanto anche interfacciarsi con i ragazzi che sono rimasti a casa e dare delle spiegazioni plausibili a questa situazione, soprattutto con dei ragazzi che da ottobre non percepiscono stipendio, è veramente dura, anche perché i ragazzi che sono a casa si sono informati sulle tempistiche della Cassa Integrazione e pare che arrivi a fine marzo.